non è solo un ragionamento domanda voi ci dite di credere perché questo è il primo passo per poter vedere la realtà ma come facciamo a comprendere da che parte arriva la verità visto che non tutto quello che ci arriva è autentico i fratelli del cerchio attraverso andreina guida è ovvio che ci vuole un po di discernimento e a questo serve il sentire a mano a mano che il sentire si sviluppa si è in grado di percepire ciò che può essere vero da ciò che il sesto senso esclude che lo sia non è solo un ragionamento è proprio un percepire dentro di sé l'attrazione o meno verso quella data cosa ma la verità non sta solo fuori dall'essere e anche dentro nel senso che si può concretizzare una realtà che si crede possibile che si crede possibile ma ciò non vuol dire che lo sia almeno fino a quel momento o che non è riferita all'interessato fino a quel momento ma credendoci si può trasformare questa realtà possibile in realtà effettiva non è detto che sia una realtà assoluta può essere un aspetto del vero che vale solo per quell'individuo in quel momento perché in quel momento così gli è utile con questo ragionamento allora si può pensare che tutto possa essere vero come non esserlo in effetti il cammino fino alla verità ultima è costellato di verità intermedie come si potrebbe sostenere di colpo la verità ultima se non ci si avvicinasse ad essa un po alla volta attraverso i suoi surrugati in questo modo ci si abitua a credere che tutto sia possibile così che la stessa anima oltre che la stessa mente si possa aprire piano piano si possa espandere sempre più e sia capace di contenere via via un frammento più ampio sublime meraviglioso anche più fantastico della verità ultima quindi credere serve a questo non a vivere con la testa fra le nuvole ma non escludere nulla a priori non importa se poi quelle verità dovessero rivelarsi fasulle la capacità di contenere nuove verità sarà aumentata comunque